Sì, sì, sì. Provvedete subito a invitare tutte le fanciulle del reame. Ma saranno più di cento. Forse più di duecento. Chissà quante saranno. Più sono, meglio è. Fra tante ne troverà una che gli piace. Una di cui... innamorarsi. Corro a dare disposizioni. Gli inviti furono spediti in tutte le case del reame. Il regale biglietto, naturalmente, fu recapitato anche nella casa di Cenerentola. Le gemelle non stavano più nella pelle. Un ballo a corte! Un ballo a corte! Dicono che il principe sia bellissimo. Anch'io sono invitata. Tu, Cenerentola. È scritto sul biglietto. Il re ordina che ogni fanciulla del reame prenda parte al ballo di corte. E ci andrai vestita così, con il grembiule e la scopa in mano. Non siate cattive con la vostra sorellastra. Ha diritto anche lei a partecipare al ballo. A due condizioni. Quali sono? La condizione numero uno è che prima... ...dobre giorni. Grazie. Grazie.